Arturo Diaconale, neocommissario del Parco Gran Sasso Monti della Laga, la settimana scorsa è venuto per la prima volta da Sergi, innanzitutto che accoglienza, che ambiente ha trovato? Ho trovato un'ottima accoglienza e un ambiente, devo dire, al di sopra di ogni aspettativa, un ambiente serio, preparato, organizzato, una struttura in grado di poter svolgere al meglio le funzioni che servono al Parco. Dalle prime dichiarazioni che abbiamo letto sui giornali e sulle agenzie, sembra lei abbia già le idee chiare su quello che sarà il suo progetto, il suo indirizzo nella gestione del Parco. Io credo che quello che posso dare al Parco, il mio ruolo, è quello di sfruttare la mia peculiarità professionale, quindi cercare di promuovere maggiormente un Parco che è importante, farlo conoscere di più, aprirlo di più a una maggiore partecipazione e di presenza turistica, perché è importante anche per l'Abruzzo in generale, per affrontare meglio una crisi che è difficile e che ci riguarda tutti. Conferenza stampa, lei ha apprezzato il lavoro fin qui svolto, ma ha parlato anche e soprattutto di pianificazione per il futuro. Il lavoro svolto è stato un lavoro importante, io mi sono trovato con una struttura che ha regolarizzato i rapporti di lavoro, quindi il mio predecessore Morra ha lavorato molto bene, la struttura sta lavorando molto bene. Si tratta adesso di programmare una serie di iniziative tese appunto a migliorare l'immagine e la conoscenza del Parco che si ha non soltanto in Abruzzo, ma soprattutto in tutto il paese. A breve, ma anche a lungo termine, però c'è questa perplessità. Tecnicamente lei è un commissario e non un presidente. Sì, io al momento sono commissario. Mi auguro di poter diventare presidente, però non dipende da me. Uno degli aspetti più delicati per un parco nazionale, tra l'altro giovane come questo, è il rapporto con gli enti locali, che premono per uno sviluppo che spesso non coincide con quelli che sono gli interessi di un'area protetta. Io credo che bisogna avere un rapporto e un confronto costante, aperto, con gli enti locali, con gli amministratori locali e anche con le associazioni che hanno interessi di tipo culturale o anche politico che riguardano il parco. Credo che solo da un confronto privo di pregiudizi tra questi organismi e i rappresentanti del parco si possa svolgere una funzione positiva. Io sono dell'idea che l'ambientalismo è arrivato ad una fase diversa. Passata la fase della semplice conservazione, adesso si deve arrivare a una fase in cui lo sviluppo deve esserci, ovviamente in maniera compatibile con la difesa del territorio. Quindi questa fase deve essere sviluppata e portata avanti con grande attenzione e con molta cura. Una sua espressione ha lasciato subito il segno, il parco è tempo che passi dalla conservazione all'apertura. Significa tecnicamente che noi dobbiamo avere una maggiore presenza dentro il parco. Il parco non può soltanto rimanere in una struttura chiusa, chiusa tra virgolette, aperta soltanto a un turismo di nicchia, a un numero ristretto di persone. Il parco ha bisogno di vivere, la gente che vive nel parco ha bisogno non soltanto di sopravvivere, ma anche di vivere e di vivere dignitosamente, avendo una prospettiva. E quindi bisogna lavorare. Penso ai progetti dell'albergo diffuso che ci sono in tante comunità. Penso alla possibilità di sviluppare una maggiore ricettività, magari evitando le costruzioni in cemento, ma seguendo l'esempio dei parchi che hanno più storia, dei parchi, io faccio sempre esempio dei parchi americani, di Giosemiti e del Sequoia Park, che hanno delle grandi strutture ricettive fatte in legno però, che consentono un afflusso grande di turismo qualificato ed appassionato dell'ambiente e del rispetto dell'ambiente. Ecco, quello noi dobbiamo cercarlo. Ecco, io penso che lei abbia letto nel giornale anche fino a questa mattina. Lei è bersaglio di continui attacchi di ambientalisti, ambientalisti di una certa parte politica, fino a ieri. Che cosa si sente di rispondere, se vuole dire qualcosa? Ma io, gli attacchi non mi preoccupano, né mi spaventano. Io faccio giornalista, sono abituato alle polemiche, anzi alle volte mi piace proprio farle, le polemiche, quindi figuriamoci. Però dico, cerchiamo di valutare le questioni concrete. E sulle questioni concrete, sui progetti, sulle misure da prendere, ci confrontiamo e poi semmai si possono incassare le critiche. Le critiche preventive hanno poco senso, no? Prima vediamo il da farsi. E poi io sono aperto a qualsiasi sollecitazione. Sono pronta a incontrare chiunque, anzi mi farà piacere incontrare anche quelli che mi criticano preventivamente, per capire su che cosa sono fondate queste critiche. Ma non ho nessuna intenzione di farmi fermare dalle polemiche, perché intendo andare avanti e svolgere una funzione possibilmente positiva. Intanto qualche critica riguarda il fatto che lei risiede a Roma, ma per lei si tratta di un ritorno. È nato a Montorio il Vomano circa 63 anni fa, nel settembre di 63 anni fa, e quindi c'è un ritorno in Abruzzo. E nei prossimi tempi trascorrerà più tempo ad Assergi, a Roma o magari a Montorio? Nei prossimi tempi cercherò di dividermi tra Roma, Assergi e Montorio. A Montorio ci torno sempre, perché è il mio paese, c'ho una casa che ho ristrutturato, una casa di famiglia, a cui sono molto legato. Ma francamente il fatto che poi io vivo a Roma non la vedo come un limite, perché Roma non è all'altro capo del mondo. Roma è a un passo. Io abito ai Parioli e se dovessi andare a lavorare all'Eur ci metterei lo stesso tempo che venire dai Parioli a qui. Quindi per me è del tutto indifferente. È un problema assolutamente relativo. Mi sembra invece che chi critica il fatto che ci sia qualcuno che pur essendo abruzzese venga da Roma, ecco questo è un po', forse denota un po' una cultura tendenzialmente un po' chiusa. Che è poi un paradosso, perché gli abruzzesi hanno una caratteristica, che quella pur essendo orgogliosi della loro identità, delle loro radici, sono aperti al mondo, hanno girato il mondo, hanno fatto il mondo. E però spesso e volentieri si torna a casa e da una decina d'anni le chiedono se volesse diventare il sindaco di Montorio. Se arrivasse una proposta concreta? Questa è una richiesta che viene fatta da tempo. Se ci fosse, io ho sempre detto che se ci fossero le condizioni, nel senso che se c'è una volontà comune e non ci sono polemiche, se posso svolgere una funzione positiva allora sì, ma se si tratta di entrare a mettersi in mezzo alle polemiche, alle beghe, io sulle beghe non sono disponibile ad entrare. A me interessa poter essere utile al mio paese nella fattispecie, perché anche Montorio ha un problema di chiusura. Montorio ha sofferto certe limitazioni, ha sofferto l'apertura dell'autostrada che l'ha un po' tagliata fuori. Anche Montorio ha bisogno di compiere un cambio, di fare un salto di qualità, di uscire fuori un po' da certe abitudini che si sono consolidate da tanti anni a questa parte, di guardare un pochettino oltre il chiuso e cercare di rimettersi in circolazione. E intanto c'è da badare a questi 150.000 ettri di straordinaria natura? Tenendo conto delle persone che ci vivono, non dimenticando mai che in questi 150.000 ettri di territorio stupendo vivono delle persone che hanno diritto a vivere dignitosamente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.